Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questa nuova puntata della serie delle 7 signori con i nostri gamberetti che stiamo iniziando la nuova stagione, siamo ancora al 15 luglio 2021, siamo in pieno mercato quindi andiamo avanti piano piano signori miei allora prima di partire col video io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando e darete a questa serie vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come maullo941, comunque i link sono sempre in descrizione e se volete supportare il canale con delle piccole donazioni trovate anche in descrizione il link per poterle fare tramite Paypal detto questo partiamo con il video ok ragazzoli, allora noi abbiamo delle trattative se non sbaglio in sospesa andiamo avanti magari fino al giorno 20 vediamo se un attimino si muovono le, si muove qualche cosa, si muove qualche cosa, non si muove completamente niente nessun resoconto sui giovani che sta a dire? nessun resoconto, volevo avvertirla che questo mezzo non abbiamo a comunicarlo al riguardo, ma de che? boh, Vaz, buongiorno papa, buongiorno, ma fa impressione, buongiorno papa, leggere buongiorno papa fa troppa impressione ho raggiunto un accordo con Caio, con Vaz, con Vaz, come lo cambieremo questo? se, 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 sai, sai albo, Vaz, con Vaz e il suo collegatore sulla base dei 60 termini, la loro scuola è importante, 5 anni, 700 chi è Vaz, scusatemi? Vaz è il difensore centrale, ok, va bene, va bene, Vaz, se non sbaglio, si, avevamo, ok perfetto ragazzi, abbiamo il nostro altro difensore andiamo a continuare ad andare avanti, abbiamo ingrangiato un fuoriclasse addirittura allora, tra un poco potremo anche fare gli allenamenti così possiamo riuscire a studiare bene Clavio, Claudio, lui sarà Claudio, Cesar, oppure Cesar, no, Claudio mi piace di più il nostro Claudio, ah Claudio, ha raggiunto l'accordo, è importante, prima 2,8 parca miseria, li vuole i soldi questo qua va bene, va bene, andiamo a accettare pure Claudio il nostro Claudione, 19 anni, 68, accettiamo l'offerta pure per Claudio perfetto raga, io direi che la squadra già si è messa a posto così offerta per il trasferimento per Satton Satton non è il nostro difensore sì, 59, accetta, ciao Satton, è stato un piacere e poi abbiamo anche Arrossi che stiamo cercando di vendere ok, ok, allora il nostro obiettivo era, intanto vediamo di riuscire a poter fare gli allenamenti per vedere perché voi mi avete detto nei commenti raga io purtroppo registro avanti, sono avanti rispetto ai video che vedete voi Sin Davis, 400.000 chi è Sin Davis? L'esterno sinistro è un 59, lui vale 3,75 me ne offrono 400, va bene, accettiamo direttamente raga accettiamo direttamente e non se ne parla più nei suggerimenti, nei commenti mi avevate suggerito di sistemare gli allenamenti in modo tale da fare le varie sessioni quindi, se io faccio aggiungi sessione come funziona? no, 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 non così esce allenamento carica sessione precedente no sessione allenamento programmata options, io non ho mai fatto questa cosa raga quindi non so cosa sta per succedere ok, quindi questa sarebbe la sessione allora, no, facciamo una cosa sistemata allora, facciamo i difensori ecco, facciamo le cose sistemate allora, prima ad allenarsi e non essere difensori quindi, Belis si allena così scivolo da controllo è perfetto poi abbiamo il nostro Harwood scusa, Hamilton già è in allenamento va bene poi ci mettiamo gli altri due difensori che sono appena arrivati ovvero Salazar il mitico Salazar che vale solamente il nome e uno spettacolo Salazar ad allenarsi sì, e poi no, no, Salazar l'abbiamo già messo Salazar ok e poi dovremmo avere l'altro difensore che è arrivato adesso confermi ovvero Vaz sì, perché stato non lo stiamo vendendo perfetto Vaz ma che cosa, tiri ma che stai a dire è un difensore perché c'è un secondo allenatore che mi dà dei consigli stupidi lì si deve allenare in questo perfetto e qua ci mettiamo ad allenare il nostro portiere il nostro primo portiere McKinley perfetto ok indifficile perfetto poi facciamo opzioni opzioni e questa è la prima facciamo nuova sessione di allenamento inserisci nome sessione programmata difensori dif no? deve essere così, no? dif per 5 perfetto nuova sessione di allenamento indietro poi abbiamo loro ora li sostituiamo tutti e ci andiamo a mettere i centrocampisti ovvero mettiamo Mariani che mi deve crescere in certa situazione controllo piedi perfetto poi andiamo a mettere l'altri centrocampisti che sono raid perfetto internazione di tonalata scivolata è un COC è offensivo che razza di suggerimenti mi dai? dribbling controllo palle agilità no, non c'è qualcos'altro sempre di difficile però posizione attacco finalizzazione no visione passaggio corto qualcosa no lì no facciamolo allenare in allora allora ti alleni in questo dimmi velocità controllo palla e scatto poi abbiamo raid poi abbiamo centrocampisti abbiamo Cunningham che deve crescere un botto perfetto e poi l'altro centrocampista dovrebbe essere vediamo un attimino Mariani raid ok e poi qui chi è il più promettente? Yamamoto è lui quello che sembrerebbe messo meglio sì che però non cresce non cresce Yamamoto non ha le statistiche per crescere ma noi lo faremo crescere il nostro Yamamoto sì in questo bravo Yamamoto e qui ci andiamo a mettere l'altro portiere il Taylor perfetto 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 sempre difficile ok poi andremo a fare sessioni di allenamento programmata e questa nuova sessione ci mettiamo centrocampisti Chen 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 perfetto ok poi facciamo nuova sessione e andiamo a mettere gli attaccanti raga voi starete dicendo ma che video stupido però mi avete suggerito una cosa molto interessante abbiamo Morris che si deve allenare in qualcosa per tirare Zio che mi stai di difficile potenza dribbling dribbling è difficile ma è suggerito se andiamo direttamente su qualcosa di già progetti a tiro passaggio finitazione posizione attacco bravissimo poi facciamo una settimana l'uno raga una settimana l'uno si alleneranno tutte il nostro Naga perfetto che si deve allenare in velocità scatto controllo palla dribbling ma veramente lo farei allenare sempre su questo potete finire attenzione passaggi perfetto poi abbiamo il nostro the rock dei poveri il nostro the rock dei poveri che si deve allenare ma perché sempre in queste cose stupide fai in realizzazione potenza dribbling e attacco e poi se non sbaglio noi aspettiamo un altro attaccante può essere no ce l'abbiamo già qua Claudio Claudio non è appena arrivato no perché nel di al difensivo che sono attaccanti ma che razza di 10 hanno al morigambe ok e qui andiamo a mettere un terzo portiere signori miei ovvero chi è messo meglio breman o con cesau breman c'ha 16 anni andiamo a mettere breman dai breman mio devi diventare una bestia ok e noi alleniamo gli attaccanti no aspettate prima devo salvarlo prima devo salvarlo nuova sessione ci mettiamo attaccanti perfetto e poi faremo pure quello con gli esterni raga ok perfetto e andiamo a allenare oggi gli attaccanti simula tutto ok qualcuno che è cresciuto no solamente il portiere perfetto bello così bravo brahman bravo brahman così praticamente ci organizzeremo piano piano con allenandoli tutti quanti assieme e riusciremo a portare avanti a casa dei veri e propri campioni gli unici che non ho fatto sono gli esterni che poi farò eventualmente off camera e sistemeremo anche loro così una volta a settimana alleniamo tutti quanti 3 mail secondo finale su isdraim dronel rossi venduto perfetto offerta del trasmento per alexander tonev tonev è sul mercato signori miei 6 e 6 accettiamo direttamente lui vale 5,75 accettiamo direttamente tonev ti ringraziamo per tutti i servizi che ci hai portato ma va bene così vediamo questo ismael e un td un 62 non sembra malaccio ismael tonev aspettiamo un attimino aspettiamo un attimino vediamo se arriva qualche altra informazione perchè all'esterno destro ci manca raga arriviamo al 24 magari arriviamo al sabato vediamo se arriva qualche altra mail interessante vediamo se arriva qualche altra mail interessante davis venduto fermiamo l'interruzione abbiamo 3 mail saltano venduto perfetto offerta per allenstein mitchell 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 è il nostro esterno sinistro ma che sto scemi no 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 rifiutiamo mitchell non si muove mitchell è il nostro titolarissimo e davis è venduto perfetto allora andiamoci a prendere ismael ragazzoli che sulla destra siamo completamente scoperti lui è svincolato quindi ci possiamo andare tranquillamente a prendere così sulla destra abbiamo anche siamo coperti pure lì allora trasferimenti trasferimenti hub mercato allora droel il nostro ismael grande ismael voglio te voglio te isma contatto per acquisto dai andiamoci a fare la bella trattativa veloce veloce rapida e indolore signori miei rapida e indolore il nostro papo maullo dovrà cercare di essere il più convincente possibile turnover già mi piaci già mi piaci ragazzo mio già hai capito tutto turnover 5 anni perfetto va bene siamo d'accordo su tutto cosa recessora non la vogliamo nemmeno noi perfetto quanto vuoi di stipendio prendi 8,50 vuoi 500 più tutte le varie bonus allora contro offerta leviamo i bonus avanziamo l'offerta teniamo quanto ne vuoi 500 perfetto perfetto bravo così bravo così zio avevamo qualche altro che era svincolato no ci sono rimasti solamente questi perfetto basta così basta così signori miei abbiamo ingaggiato un altro fuori classe perfetto cioè la nostra squadra è fatta solo da fuori classe ottimo andiamo qui in discorso degli allenamenti facciamo programmata e andiamo a prendere difensori creando la stazione programmata tu eserciti assegnate le slot di allenamento non effettuati e verranno emossi sì perfetto simuliamo e i nostri allenatori e i nostri difensori li stiamo allenando così facciamo una volta l'uno e non ci dimentichiamo di nessuno raga e hanno tutti la possibilità di crescere piano piano andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti arriviamo oramai al primo di agosto raga arriviamo tonne per venduto va bene va bene offerta per il trasferimento di chi? di Caio Gomez Caio Gomez attaccante sinistra esterno esterno sinistro sì Gomez lo possiamo vendere pure sì era pure messo sul mercato Gomez non è vero sì quindi come se potremmo venderlo pure tonne è stato venduto va bene andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti già c'è la prima partita ma che stiamo a dire no non possiamo partire così no non esiste allora arriviamo al al ridosso della prima partita di campionato signori miei e ci fermiamo qui offerta per wielding wielding è pure sul mercato wielding mio ti abbiamo voluto bene sei stato un ottimo giocatore ma noi accettiamo e ti vendiamo facciamo soldi raga facciamo spazio e facciamo crescere i giovani che ci devono portare al successo signore arriviamo al ridosso della partita contro contro chi siamo contro il Bradford ok io non tocco niente delle mail perché così non abbiamo il rischio di sbagliare qualcosa vediamo un attimino la rosa così potete darmi eventualmente dei suggerimenti noi abbiamo McKinley che è un 73 e Taylor un 68 in panchina sulla sinistra abbiamo Mitchell e Leesley perfetto in difesa abbiamo Harwood Salazar Hamilton e Watts e Saibo Seyalbo e Seyalbo ok e Seyalbo sulla destra abbiamo Raja e Ismael perfetto in centro campo abbiamo Cunningham che lo vedremo dopo sulla sinistra abbiamo Nicholson ed Esposito perfetto in centro campo abbiamo Cunningham Mariani wielding che lo stiamo vendendo tutte raid e raid perfetto ne abbiamo 4 siamo coperti per ora raga considerate che c'è tra l'altro il stiamo allenando qualche altro di giovane da portare al centro campo sulla destra abbiamo Casadei e Sullivan perfetto Gomez lo stiamo vendendo in attacca abbiamo il nostro Naga che è un 66 il The Rock dei poveri 61 Morris 67 Claudio 68 e Stockholm ok Stockholm è un 27 e il The Rock dei poveri un 61 devo decidere chi mandare in prestito raga se è il The Rock dei poveri o Stockholm perché considerate che noi avremo Claudio che è un 68 Morris che è un 67 e Naga che è un 66 che sono i nostri titolarissimi praticamente titolarissimi si va bene ragazzoli detto questo noi siamo a ridosso della partita contro il Bradford io non leggo le mail così non sbagliamo smetti caso c'è qualcuno che si lamenta detto questo io vi ringrazio per guardare questo video vi ringrazio per tutto quanto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto bella raga ciao